e sono i ragazzi che mi ha visto grazie signori e signori che stanno entrando in prima e seconda posizione rispettivamente attenzione calito per all'exterio la prossima domanda il leffantars poi parla signor e signori con elia tollissa e lui ha la comanda in confronti di marchio abbiamo poi filippo non è da lì e per la quarta posizione tutto da giocarsi sono raccaldi vantaggiato il 9386 per il 9 e una bellissima abbiamo poi marchi canova abbiamo filippo non è da lì e mano alle bianche